buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce oggi voglio denunciare un qualcuno che non mi piace potrei riassumere il tutto con questa espressione doppi standard due pesi e due misure vado subito al noccio della questione se una ragazza se una donna viene denigrata per il suo peso per esempio parliamo di una ragazza sovrappeso obesa e viene denigrata per questo si grida subito allo scandalo si denuncia questo body shaming non devi permettere di mancarmi di rispetto di puntare il dito contro il mio peso e va benissimo secondo me questo è importante è importante essere arrivati ad una civiltà in cui si fa attenzione anche queste cose sicuramente una persona che sovrappeso che obesa può dimagrire deve dimagrire in primis per se stessa ma questo non significa che gli altri debbano mancare di rispetto per questo ok però dov'è il doppio standard che al tempo stesso noto che non si denuncia allo stesso modo quando una donna prende in giro per cula l'altezza ad esempio di un uomo un uomo non molto alto un uomo basso viene abbastanza schernito e non trovo non noto la stessa indignazione siamo arrivati ad un punto in cui addirittura ma qui siamo ovviamente agli estremismi più fanatici se un uomo rifiuta una donna guarda non fai per me e il motivo è perché sei troppo sovrappeso e non mi attrai per questo questo viene definito body shaming se tu rifiuti una donna per il suo peso questo sarebbe body shaming sarebbe una violenza non è vero tu sei libero di rifiutare una donna se il suo peso la sua diciamo costituzione corporea impedisce di provare attrazione poi questo non significa che devi dirle frasi sgradevoli che devi dirle grassona ad esempio il rispetto è fondamentale però io noto un estremismo se tu rifiuti una donna in perché grassa allora questo sarebbe body shaming e secondo me è una stronzata assurda perché tu sei libero di rifiutare con gentilezza tatto e garbo per qualunque motivazione impedisca di essere attratto però il delirio duplice è che non si vede assolutamente traccia del contrario non ho mai sentito descrivere diciamo non ho mai sentito una donna accusata di body shaming perché ha rifiutato un uomo basso molte donne rifiutano gli uomini bassi o comunque non abbastanza alti sono delle donne che addirittura nei loro profili scrivono per quanto riguarda all'uomo che cercano no sotto 1,80 no sotto 1,65 è proprio esplicito addirittura neanche cioè vabbè dipende da caso a caso magari sì io preferisco alto però in certi in certi casi magari il tuo volto mi colpisce particolarmente il tuo carattere non ho proprio una condizione messa lì come imperativa e io penso che sia lecito è solamente che nel caso della donna nessuno urla al body shaming ai danni del maschio e questo non va bene un po doppi standard la mia posizione è che una donna possa rifiutare tranquillamente un uomo perché è basso possa anche scriverlo nel profilo non voglio uomini sotto il metro 90 una donna può scrivere quello che vuole anche non voglio uomini che abbiano il pene sotto i 28 centimetri assolutamente leciti allo stesso modo però un uomo deve essere libero di preferire una donna con un certo tipo di peso quello che conte vale per uomini e per donne che ci sia il rispetto non ci deve essere la presa in giro non ci deve essere l'offesa non ci deve essere il tentativo di denigrare l'altro questa è la mia posizione ci sono un po due pesi due misure si si vada molto a proteggere quella che è la discriminazione reale o immaginare danni della donna un po poca attenzione nei confronti della discriminazione reale o immaginare leggo fuori dell'uomo quindi sia per quanto riguarda quando effettivamente c'è un insulto se insulti una perché grassa e la prendi in giro gli bastonano molto gli fanno bene però non vedo lo stesso bastonaggio nei confronti di una donna che magari prende in giro qualcuno per l'altezza questo non va bene questo non non va affatto bene avete capito la mia posizione insomma liberi di scegliere quello che si vuole l'unico parametro è non offendere non mancare di rispetto non va bene il doppio standard non va minimamente bene il doppio standard e poi a parole magari alcune persone che fanno certe battaglie dicono no ma io se noi siamo contro il body shaming da 60 gradi non deve essere fatto nei confronti delle donne bene anche nei confronti degli uomini però a volte a volte mi sembra che sia poi a parole così ma nei fatti poi c'è non va bene volevo denunziare questa cosa ma ci ribadisco ci riba ci tengo a ribadire che rifiutare una donna perché grassa o rifiutare un uomo perché basso per me è assolutamente lecito non è minimamente body shaming non è body shaming non è discriminazione una scelta legittima tu puoi rifiutare una donna perché non ha il seno abbastanza grande perché non ti piace il suo ventre perché pesa troppo e tu donna puoi rifiutare un uomo perché al pene piccolo perché è basso perché non ha soldi tutto l'essere non sono di discriminazione quindi voglio anche andare a quel paese una mentalità un po' degenerata è addirittura vabbè non voglio dire altro insomma però per quanto riguarda le discriminazioni cerchiamo di dare peso ad entrambe brutto quando un uomo insulta una donna perché è grassa brutto quando una donna insulta un uomo perché è basso mi raccomando mi raccomando e se poi per lo meno per un discorso di coerenza vogliamo dire che in realtà è body shaming anche rifiutare in quanto grassa perché tu dovresti conoscere l'animo della persona non dovresti basarti solo sul peso se vogliamo arrivare a questo per me è sbagliato perché uno può rifiutare assolutamente anche per il peso ma se vogliamo chiamare body shaming questo allora per un principio di coerenza consideriamo body shaming anche una donna che rifiuta un uomo in quanto basso è importante poi per me andrebbe mandato a quel paese questa mentalità in generale non è body shaming cazzo una donna può volere uno alto uno due metri una donna è libera di volere l'uomo che vuole così come una donna così come un uomo è libera di volere la donna che vuole poi chiaro che io poi nei miei video lo faccio consiglio cari ragazzi cari ragazzi nella vita c'è cari di capire che quello che conta è in una relazione l'animo dell'altro quindi l'attrazione estetica assolutamente è un parametro che c'è e non è che bisogna fargli pochi no non conto solo l'interiorità no conta anche l'aspetto fisico per un certo tipo di rapporto però non mettiamo in secondo piano l'interiorità e il carattere e per quanto riguarda l'estetica cerchiamo anche di capire che l'estetica non può essere data da un solo parametro quindi misure? altezza? cos'è? per esempio io mi chiedessero qual è il tuo prototipo di donna non ce l'ho per gioco posso dirlo con leggerezza come gioco posso dire tendenzialmente preferisco una con i capelli scuri piuttosto che chiari preferisco gli occhi scuri piuttosto che chiari ma sarebbe assurdo dire rifiuto a priori che gli occhi verdi non ha senso non ha minimamente senso perché secondo me l'attrazione va al di là delle singole caratteristiche e quindi ci potrebbe essere anche se tu tendenzialmente magari preferisci uno alto ci potrebbe essere un caso in cui uno basso in realtà ti attrae lo stesso e quindi mettersi dei paletti secondo me è stupido quindi è un consiglio e io mi dedico anche agli uomini uno dice no io voglio semplicemente una col fisico solo una con la pancia piatta ma non escluda che ti possa piacere anche una sovrappeso sono schemi stupidi questi però un conto è dare un consiglio in questo senso un conto è giudicare qualcuno perché sceglie quello che vuole io denuncio anche un mondo in cui si dà priorità al dio denaro ma se una donna vuole scegliere uno per i soldi che ha è libera di farlo una donna che dice io voglio solo un uomo che ha più di 3000 euro al mese di entrato una donna deve essere libera di farlo e non va giudicata per questo e vi parla uno che sapete no? che visione ha del dio denaro sicuramente non è una donna che io possa stimare particolarmente se per lei il soldo è tutto ma se non stimi una mentalità di una persona non significa che tu abbia diritto di denigrarla questo è fondamentale un saluto